Prevista entro questa settimana la pulizia dei cigli stradali sulla strada provinciale 4 Comiso-Pedalino. Dopo due anni di solleciti presso la provincia di Ragusa, il comune di Comiso decide di intervenire anche se non di sua competenza, a darne notizie all'assessore all'ambiente Vittorio Ragusa e il sindaco Filippo Spataro. Le reiterate segnalazioni pervenute, ha spiegato Ragusa, ci hanno spinto a chiedere più volte in questi due anni un intervento da parte della provincia per ripulire i cigli stradali della strada provinciale 4 che congiunge Comiso-Caltagirone passando per Pedalino. Non essendo di competenza del comune commisano, l'amministrazione spiega di aver più volte sollecitato evidenziando il carattere di estrema necessità dell'intervento, poiché a causa dell'aumento di erbacce lungo i cigli le carreggiate si sono troppo ristrette. Inoltre proprio la strada provinciale in questione fiancheggia l'aeroporto di Comiso e così ridotta non offre certo uno spettacolo accettabile per i turisti in arrivo. L'assessore spiega anche che non avendo ricevuto per alcuna risposta dalla provincia, con la collaborazione della ditta Busso interverrà il comune di Comiso, sebbene non sia di sua competenza. Non ci tiriamo indietro di fronte alla sicurezza stradale, ha commentato il primo cittadino Filippo Spataro, anche se ciò comporta il superamento di limiti di competenze territoriali. La strada provinciale 4 oggi rappresenta in quel tratto una delle arterie più battute grazie all'aeroporto di Comiso ed è anche per questo che non possiamo esimerci dall'attenzione per il decoro di tutto il territorio urbano ed extraurbano.